È per Antonomasia il luogo del riposo in pace, ma qui al cimitero centrale San Decenso dove ci troviamo ora c'è sempre tanto movimento di nuovi cantieri che si aggiungono. Nuovi cantieri per buone notizie e notizie meno buone. Tra le buone c'è quella del lavoro al padiglione dei fiori, vedete la scalinata alle mie spalle, fino a poche settimane fa era inagibile, lo è stato per tanti mesi. In questo che è un padiglione della storia travagliata, al centro di un contenzioso lungo che ha coinvolto il comune di Pesaro, tanti mesi di luoghi inaccessibili, ora in questo mese di febbraio si sono intensificati i lavori per il ripristino della struttura dopo infiltrazioni e altre problematiche edili. Il comune sta facendo veramente bene l'impresa che ha iniziato i lavori e sta procedendo celermente, crediamo che nel giro di qualche settimana potremmo avere i lavori finiti. Il lavoro era grande, c'è tuttora un contenzioso giudiziario tra l'impresa che ha costruito e il comune. Il comune però ha deciso comunque di venire incontro a quelle che erano le esigenze proprio degli utenti, dei familiari, insomma delle salme che sono tumolate all'interno del padiglione dei fiori. Alcune vie di accesso sono state riaperte, sono state messe in sicurezza alcuni percorsi, tutti i loculi sono visitabili e quindi diciamo che nel giro di qualche settimana dovremmo riuscire a vedere finalmente compiuta e sistemata regola d'arte quella che era una stortura all'interno del cimitero. Il cimitero centrale è enorme, è grande, ha più di un secolo di vita, insomma rispetto almeno nelle parti che sono in muratura, i lavori sono costanti, continui di manutenzione ordinaria, sulla straordinaria ci sono alcune parti che necessitano e questa era una di quelle cose. Il comune devo dire sta facendo veramente un ottimo lavoro. E poi ci sono i cantieri che si aggiungono per nuove problematiche, uno di questi riguarda una delle parti più antiche del cimitero monumentale, una parte degli anni 60 da tempo transennata, ora è scattata anche l'ordinanza di inagibilità dopo diverse problematiche emerse in questi ultimi giorni con alcuni cedimenti. Questa è una zona che è già attenzionata da diversi anni, col terremoto avevamo già transennato una parte proprio perché si possono creare situazioni di pericolo per i visitatori, per i parenti, anche i congiunti dei sepolti. Abbiamo un pochino di difficoltà che in questi giorni stiamo affrontando. Il comune ha fatto l'ordinanza per cui non ci si può avvicinare. Aspettiamo, decideremo presto che tipo di intervento fare, se la demolizione, poi un'eventuale ricostruzione come probabile, lo spostamento temporaneo delle salme in altri spazi all'interno del cimitero, oppure se fare un intervento ma molto complicato, probabilmente impossibile, di ripristino della struttura attuale con un restauro, un recupero che, come dico, di primo a kit i tecnici hanno detto molto complicato proprio perché il danneggiamento è tanto e non è così di facile recupero.